Il sistema sanitario non deve fare utile di avere sempre un segno meno davanti. Mirko, insieme a Federico Greco ha firmato la regia di questo film dal titolo C'era una volta in Italia, già carta sta arrivando. Che cosa volete raccontare attraverso questa produzione? Il film analizza quello che è stato il progressivo smantellamento della sanità pubblica italiana e globale. E lo fa con un doppio binario narrativo. Da un lato racconta la storia epica e coraggiosa di alcuni ragazzi, uomini e donne che hanno occupato un ospedale in un piccolo paese calabrese che si chiama Cariati. Un ospedale che era stato chiuso 10-11 anni fa a causa delle politiche d'austerite volute dall'Europa. e hanno occupato questo ospedale nel novembre 2020 per chiederne la riapertura. Quindi da un lato il film racconta questa loro storia, questa loro azione coraggiosa che hanno portato avanti per più di un anno. E dall'altro è un'indagine approfondita attraverso le interviste con dei grandi esperti sia di giornalisti, medici e anche delle star della musica come Roger Waters oppure delle star del cinema come Ken Loach. e con le loro interviste cerchiamo di analizzare e individuare quelli che sono i responsabili di questo progressivo smantellamento della sanità pubblica italiana e mondiale e dell'avanzare invece della sanità e degli interessi di grandi privati. Quando e dove verrà proiettato il film? Si potrà vedere nelle prossime settimane in diverse città d'Italia. Partiamo la settimana prossima con lunedì 23 una importante proiezione ad Ancona, il Cinema Italia. Poi abbiamo lo stesso giorno anche una proiezione a Milano e successivamente andiamo a Cagliari, a Cesena e torneremo qui a Roma. E comunque chi vuole avere aggiornamenti sulle uscite e le proiezioni può andare sul nostro sito c'eraunavoltenitalia.com o sulla nostra pagina Facebook che è Pigs dei Movie. A presto! A presto!